Sono tornato un mese e mezzo fa alla tour italiani di frontiera, è stata un'esperienza meravigliosa, un'esperienza fuori dagli schemi, ho avuto l'opportunità di vedere cose e parlare con persone incredibili. Consiglio a tutti di partecipare al tour, qualsiasi lavoro facciate, perché veramente porta, vi toglie quel tappo, vi spazza via quei schemi mentali che noi purtroppo quotidianamente tendiamo a farci. Sono Tristano Grandinetti, proprietario e imprenditore della Grandinette SRL, azienda fondata dal mio bisnonno agli inizi del Novecento, quindi un'azienda secolare radicata qui nel territorio marchigiano. Abbiamo obiettivi di crescita facciate, troviamo pavimenti in graniglia, vendiamo in tutto il mondo.